L'8 marzo è diventata la data per celebrare i diritti del mondo femminile. Tra le origini di questa ricorrenza ci sono però alcuni difetti di interpretazione. Il più diffuso è quello di regare questa tradizione all'incendio, avvenuto nel 1911, peraltro era il 25 di marzo, nel quale sono morte 146 persone, tra cui 123 donne e 23 uomini. In realtà questa ricorrenza affonda le sue radici ai primi del Novecento, quando le donne iniziarono a rivendicare i propri diritti. In 15.000 marciarono per le strade di New York, chiedendo orari di lavoro più brevi, una paga migliore e il diritto di voto. Nel 1909 fu il Partito Socialista d'America a dichiarare la prima giornata nazionale della donna. Clara Zetkin, attivista comunista e sostenitrice dei diritti delle donne, suggerì la creazione di una giornata internazionale. Nel 1910 presentò la sua idea a una conferenza internazionale delle donne lavoratrici a Copenhagen e le 100 donne presenti, provenienti da 17 paesi, accettarono all'unanimità. La giornata della donna fu allora ufficializzata. Siamo nel 1975, quando le Nazioni Unite iniziano a celebrarla. In moltissimi paesi è tradizione regalare fiori alle donne l'8 marzo, ma la relazione tra i fiori di mimosa e la festa della donna è tutta italiana. Teresa Mattei, un'ex partigiana, avrebbe continuato a battersi per i diritti delle donne insieme a Rita Montagna e Teresa Noce e propose allora di adottare un fiore molto più economico che fiorisse alla fine dell'inverno e che fosse facile da trovare nei campi. Da qui nacque l'idea della mimosa. Nel 2022 questa festa è stata dedicata alle donne ucraine che sono costrette a fuggire dalla guerra, lasciando dietro la propria vita.